E attenzione, voglio dire anche al mondo bancario, noi stiamo monitorando la risposta del mondo bancario a questo decreto di liquidità. Abbiamo predisposto tutto, tutto perché vengano erogati questi finanziamenti in modo legittimo, corretto, aderendo alla filosofia di questo provvedimento. Molte banche, molti istituti bancari, responsabilmente sono predisposti e si stanno assolutamente adoperando per assecondare la filosofia di questo decreto. Mi raccomando, chiedo uno sforzo a tutto il mondo bancario perché possa erogare subito liquidità alle imprese che ne hanno bisogno, rispettando quelle che sono le nostre indicazioni. Abbiamo offerto una cospicua, anche dal punto di vista economico, garanzia dello Stato. Cercate di fare in modo di avere incontro a queste richieste, cercate di liberare queste risorse in questo momento, fatelo. Lo dico, è un appello, non voglio fare distinzioni, immediatamente c'è una risposta, ma questa risposta può essere ancora più incisiva, può essere ancora più rapida e tempestiva. È un atto d'amore che chiedo anche al mondo bancario per l'Italia, per i cittadini italiani e per le imprese. Adoperatevi, il governo c'è, se ci sono dei problemi applicativi, ditecelo, siamo disponibili a un incontro quanto rapido possibile. Dobbiamo risolvere tutti i problemi, dobbiamo consentire alle imprese di poter disporre di finanziamenti per andare avanti.